Mi hanno appena licenziato e mio marito mi ha lasciato. Parti forte, eh? Sì. Quando mi avrete passato per quartiere, mi pare uno zombie. Io le propongo un patto. Dieci minuti di un'esperienza nuova. Accusano di furto. È possibile che non ti accorgi di niente? Che mi stai lasciando? Ti ho già lasciato. Lo sai che cos'è la forza più grande dell'essere umano? No. La debolezza. Dieci minuti, un film di Maria Sole Tognazzi. Dal 25 gennaio al cinema.